Musica Igiene, mascherina, distanze e il virus è K.O. Se puoi, evita le ore di punta. È più sicuro, per te e per gli altri. Fatti furbo, esci prima o dopo. Usa la testa e la mascherina anche quando ti diverti. In coda, mascherina a distanza di un metro. Così la spesa è più conveniente, per tutti. Essere amici a un metro di distanza? Si può fare. O la mascherina blocca il virus, o il virus blocca noi. Pensaci. Se non stai bene, stai a casa. Meglio una mascherina oggi che un lockdown domani. A Trento, contro il coronavirus. Giochiamo di squadra!